L'iniziativa si è aperta al Parco Cerriolo, uno dei luoghi più suggestivi di Custonaci, dove si trova la statua della Regina Pages. A fare da sottofondo, al primo appuntamento del programma predisposto dall'amministrazione comunale, il concerto lirico dal tramonto della corale parrocchiale Et Ero Custos, diretto dal maestro Mario Giurlanda. Poco prima dell'inizio del suggestivo momento musicale, si è tenuto un momento di preghiera davanti alla nuova stazione marmorea della Via Crucis, che si trova nel sentiero del Parco Cerriolo, realizzata dallo scultore Giuseppe Cortese. Il messaggio che lanciamo è che la Madonna è un valore religioso, ma anche culturale, che unisce i popoli. Attorno alla Madonna si riconoscono le diverse religioni monoteistiche, e quindi è importante poter affermare questo valore importante del nostro territorio, che è un territorio mariano, noi siamo civi da Samarie, e non poteva a Custonaci mancare un momento di confronto, di riflessione, di confronto culturale ovviamente, dove la centralità della Madonna è il valore che unisce tanti popoli. Guardiamo quello che ci unisce piuttosto che quello che ci divide, ci conosciamo meglio nelle culture dei popoli che si affacciano sul Mediterraneo, per lanciare un messaggio di pace. Ecco perché la Regina Pacis è il faro di pace del Mediterraneo. In questo posto così bello abbiamo voluto disegnare un percorso, e un percorso che anche attriri il turismo religioso, e quindi c'è un percorso dove è segnato, in questo sentiero, la Via Crucis Marmorea. Oggi inauguriamo un'ulteriore stazione, sarà completata ancora nel giro di qualche anno, ed è un'altra opportunità per attrarre i turisti, gli appassionati e soprattutto i religiosi in un posto che dal punto di vista naturalistico già è uno e ti avvicina molto al trascendente.